. Formula 1 GP Ungheria 2017, le vittorie e la storia di questo avvincente circuito. . Le prime notizie riguardo un GP in questa terra risalgono al 1936 a Neplige ed il primo a tagliare il traguardo è Tazio Nuvolari. Dopodiché la gara automobilistica viene interrotta a causa delle guerre e dell'avvento dell'Unione Sovietica. . . L'Ungheria dovrà aspettare ben 50 anni prima che una vettura torni a sfrecciare sul suo asfalto, nel 1986 infatti, e Clestone approfitta dell'attenuarsi tra i due blocchi e riporta la Formula 1 al di là della cortina di ferro. . 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 I piloti devono uscire dai box, in Ungheria tocca ad Alonso ma l'indisciplinato Hamilton non rispetta l'ordine ed esce per primo. Lo spagnolo non rimane a guardare e al pit resta fermo qualche secondo per recuperare il torto subito, morale, la McLaren non si aggiudica punti per il mondiale e Alonso è costretto ad arretrare in sesta posizione. Nel GP del 2009 Massa tiene i tifosi col fiato sospeso, una molla si stacca dalla BRAVN del connazionale Barrichello e colpisce il brasiliano, la Ferrari procede la sua corsa finendo diritta contro le barriere. Massa viene estratto privo di coscienza e trasportato in ospedale, il bollettino recita, commozione celebrale, taglio sulla fronte e lesione della parte sinistra del cranio. Il GP del 2010 se lo aggiudica Weber ma la prensione è tutta per il povero meccanico della Williams colpito dal pneumatico della Mercedes di Rosberg. Nigel Lope, questo il suo nome, se la cava con una costola rotta mentre la casa tedesca è costretta a pagare una multa di 5 000 dollaro. Nel 2011 ancora buttonne sotto la pioggia. Il campione inglese festeggia i suoi 200 gran premi nel miglior modo possibile, davanti a Vettel e Alonso. Daniel Ricciardo beffa tutti e si aggiudica il GP del 2014, davanti ad un super Alonso in Ferrari e alle due Mercedes alle prese con le solite sportellate. Il 2015 vede Sebastian Vettel, vincere con la Ferrari dopo 11 anni intanto il russo Kvyat sale per la prima volta sul podio. Lewis Hamilton, invece conquista la gara del 2016 dopo un gran premio pieni di colpi di scena e sorpassi per la conquista del podio. Ciao!